oggi penso molto a carlo cecchi e come l'ho conosciuto quando e mi viene in mente una persona così speciale che si chiamava bianca zevi che allora con il marito alberto alberto poi era una persona così discreta e squisita sono loro che a casa loro con luciano foran fatto nascere la casa editrice ad elfi niente po po di meno e fu bianca che mi invitò un giorno a casa sua e mi disse assolutamente devi conoscere carlo cecchi perché sta facendo degli spettacoli meravigliosi mi ricordo che abbiamo invitato era il primo pirandello da quel momento dopo un pensiero ai due zevi che adesso hanno due figlie eccezionali anche che continuano nella grande tradizione di famiglia di essere delle persone straordinarie questa è una tradizione come un'altra molto importante perché comunque quello che tocchi lo fai bene lo fai seriamente lo fai con così bene carlo è la persona perché mi è venuto in mente perché tutte le volte che abbiamo dovuto iniziare qualcosa c'era carlo nel senso che quando abbiamo fatto i lavori e che non c'era ancora niente abbiamo fatto delle augurazioni e le augurazioni era per augurare lunga vita al nostro teatro carlo è venuto e ha alzato il foglietto che amos os aveva scritto in una seduta con nessuno presente qualche amico il fuoco era in mezzo al palcoscenico no il fuoco era in sala perché doveva essere il fuoco del pubblico che doveva seguirci con passione lui era seduto a un tavolino palcoscenico vuoto avevo fatto mettere una vite per dire che come un seme cresce nella natura una parola poteva diventare il futuro e lui scrisse in un piccolo fogliettino che andò a nascondere dentro a una fessura del palcoscenico e che rimase finché arrivò carlo cecchi molto tempo dopo tirò fuori quel foglietto e lesse che cosa aveva scritto a mosos bene poi prima ancora che il palcoscenico fosse finito c'era carlo che doveva fare sic sic un omaggio a eduardo forse era bernard comunque che aveva sì forse era bernard eduardo beh comunque aveva a che fare col teatro bene carlo cecchi è stato anche una esperienza meravigliosa adesso dovevamo andare in israele al festival hanok levin perché insieme la storia è questa lui mi dice io amo molto hanok levin e perché aveva letto perché la francia aveva tradotto molti testi di hanok levin che aveva scritto 300 tra commedie tragedie e si è stupito che io lo conoscessi ma io lo conoscevo perché al molto tempo prima era stata fatta una traduzione dovevamo andare in scena franco iannacci e maria monti io lo conoscevo e gli ho detto fallo metti in scena tu scegli una commedia allora abbiamo scelto era mariage divers un titolo l'abbiamo fatto tradurre lui ci ha lavorato e poi si è accorto che non c'era una parte che gli piacesse e allora mi ha scritto una lettera a mano bellissima dove mi ha detto io non ho trovato quello che volevo fare se tu hai un'idea di un testo che io posso fare lo faccio con la tua regia e così mi ha incaricato nel mio teatro di fare una regia che ho fatto con molta gioia e si chiamava il lavoro di vivere è stata un'esperienza bellissima faticosa claudia della seta che conosce l'ebraico e che vive in israele che conosceva bene hanok levin ha tradotto il testo doveva essere anche in scena ma avevamo tutti paura di carlo sembrava così difficile andare in scena con carlo invece con lui c'è stata una serenità una allegria una intesa profonda intesa profonda che continua anche da lontano io gli scrivo lui non risponde però gli scrivo che mi manca molto l'altro giorno l'ho chiamato e lui ha detto devo andare a cercare rasin perché voglio leggere rasin ecco carlo cecchi è un incontro di quelli che ti stimolano che ti danno anche insomma il fatto che lui riconoscesse che come lavoravo io era un modo concreto che avesse un'idea di teatro alle spalle e non così attentoni per vedere come viene meglio beh è stato importante per me e adesso in israele non andremo ma forse in futuro e comunque il prossimo progetto deve essere con carlo cecchi ecco